e rieccoci qua in trasmissione allora fin ad ora signori le situazioni che abbiamo sentito fin ad ora le situazioni che abbiamo sentito ci parlano di di scadenze a breve che potrebbero essere abbastanza nefaste insomma il tema sapete che cosa mi sembra a me fin ad ora lettore un'Italia confusa un'Italia confusa a mille velocità con tanti dubbi, tante incertezze mi è piaciuto mi è piaciuto pensare faccio un'analisi veloce Bombardieri segretario della UIL che giustamente dice noi dovremmo essere chiamati dal governo per concertare ma se non lo volete chiamare concertare chiedetelo chiedetelo un consulto perché noi rappresentiamo i lavoratori il lavoro non è considerato secondo noi più di tanto non c'è un piano di sviluppo futuro e quindi il lavoro si perderà poi sentiamo anche qui cosa simpatica il professor Paolo Malacarne direttore anestesia e reanimazione di Pisa che dice pensate onestamente io ho parlato con le mie infermiere che a un certo punto mi hanno detto gli altri medici una consultazione tra loro e alla fine decidono come ha usato lui in maniera un po' carbonara di fare entrare il paziente perché giustamente è una parte della cura però insomma in maniera carbonara poi sì la regione prende questo tipo di esempio e lo porta avanti però parliamo ancora di confusione di una situazione inventata dagli uomini di buona volontà poi arriviamo a Roscioli che dice sì gli alberghi fatturano in Italia il 13% quindi 200-210 miliardi circa vabbè tutto il turismo non solo gli alberghi va benissimo va benissimo ma sono sempre 210 miliardi cioè tutto il turismo tutto il turismo tutto il turismo però ha avuto 3 miliardi lo so e quando la Fiat ne ha avuti 6 cioè sinceramente trovate il fatturato della Fiat voglio vedere insomma stiamo alle comiche stiamo in una nazione confusa estremamente confusa dove la parola d'ordine secondo me è arrangiati cioè mi sembra un film del dopoguerra e stiamo per aggiungere un altro tassello a questo ragionamento la storia di un farmaco con l'antifamoso anticorpo monoclonale quello che ha curato Trump che udite udite quello che adesso arriva negli Stati Uniti viene fatto in Italia precisamente a Latina a Latina viene realizzato a Latina per conto di una multinazionale farmaceutica americana e ne parliamo con Thomas Mackinson giornalista del Fatto Quotidiano buonasera 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 Mackinson ecco Mackinson abbiamo detto bene allora è un cognome di origine scozzese in realtà poi americanizzato buonasera a tutti buonasera se volete io ve la racconto questa storia del monoclonale italiano è una storia che inizia in realtà a ottobre ai primi di ottobre quando un virologo italiano di fama mondiale che si chiama Guido Silvestri vedendo che negli Stati Uniti a partire da Trump venivano utilizzati questi anticorpi neutralizzanti che agiscono sul virus abbattendo la carica virale e quindi sono una cura non una prevenzione ma una cura ha chiamato l'amministratore delegato della multinazionale che aveva che sviluppava questo questo trattamento e gli ha chiesto la cortesia lo ha pregato di fare qualcosa per l'Italia e quindi gli ha chiesto se era possibile avere delle dosi 10.000 dosi da utilizzare con un trial gratuito in Italia e consentire così l'introduzione nel nostro paese che era quello come dire il più pandemico nella storia della pandemia di avere a disposizione l'unica cura oltre come dire la tachipirina che dà l'AIFA per capirci da lì inizia tutto un giro di telefonate di incontri di abboccamenti di rimandi di rinvii e si arriva al 29 di ottobre giornata nella quale si incontrano virtualmente come stiamo facendo noi voi siete lì in studio ma io sono qui si incontrano i capoccioni della multinazionale Guido Silvestri che aveva proposto questa possibilità l'aveva proprio costruita tutto lo staff regolatorio dell'AIFA esponenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità per parlare di cosa? Per parlare di questa possibilità che era un po' piovuta dal cielo nel senso che non c'era un paese in Europa che fosse così avanti nella possibilità di sperimentarli e soprattutto sono l'equivalente di 10 milioni di euro in farmaci laddove in Italia non abbiamo farmaci questa possibilità cade misteriosamente nel vuoto cioè la multinazionale che siede a quel tavolo non avrà mai riscontro di un interesse dell'Italia a proseguire questa strada io questa storia l'ho seguita e sono rimasto sconvolto quando sono andato a fare un po' di ricerca diciamo storica di monoclonali quanto se ne è parlato in Italia da quando perché ho scoperto che da noi se ne parlava da marzo ma nessuno sapeva che questi monoclonali sono prodotti in Italia ma sono destinati agli Stati Uniti al Canada a Israele in Ungheria presto in Germania ovunque tranne che da noi e li ho voluto capirci cioè capire perché come fosse possibile e sono venuto come dire a sapere che c'è una verità ufficiale dietro il NET a questi monoclonali ripeto regalati regalati ed è quello del quadro regolatorio per cui se l'Ema l'Agenzia Europea del Farmaco non autorizza allora l'AIFA non autorizza poi però studiando le cose chiamando un po' di ex presidenti dell'AIFA scopro che in realtà ci sono tutti gli strumenti di legge per autorizzarli senza che lo abbia fatto l'Ema ma l'AIFA l'ha autorizzati o no a questo punto? oggi? no a seguito dell'inchiesta che ho fatto è successo questo che questo capitolo dormiente dei monoclonali prodotti in Italia è rimasto tale finché non siamo usciti noi con questa inchiesta e il presidente Palù neopresidente del 4 di dicembre ha messo per la prima volta da che è iniziata la pandemia all'ordine del giorno di una riunione in AIFA il tema dei monoclonali non era mai successo quindi che cosa ha detto Palù in quella riunione e poi in conferenza stampa che l'Italia in sostanza recupererà terreno cioè dopo aver lasciato cadere quella possibilità dopo aver invastito dei progetti propri sui monoclonali che però stanno pronti forse l'anno prossimo a giugno per capirci riconsidererà la possibilità di rivolgersi al mercato dove questi prodotti già ci sono perché il paradosso è questo che questi farmaci che sono molto efficaci su una platea specifica di popolazione sono farmaci che funzionano molto bene sedati presto rispetto al tampone su pazienti ad alto rischio e per questa platea specifica evitano le ospedalizzazioni in un range che va dal 75 al 90% scusate abbiamo calcolato dimmi ma se questi se questo prodotto viene fatto a latina no? capito male? la BSP se ne ho di latina 100.000 dosi al mese perfetto e allora perché l'Italia a questo punto deve ancora riuscire a capire dove farli? vengono già fatti a latina latina se non sbaglio sta in Italia quindi vuol dire che li facciamo qua a questo punto resta semplicemente da decidere se li vogliamo utilizzare o non li vogliamo utilizzare esatto finora si è deciso di non utilizzarli ancorché ci fossero stati proposti gratuitamente ma siccome qualcuno a me per esempio ultimamente persone autorevoli hanno detto dobbiamo cercare il modo di produrli in Italia perché oggi vengono prodotti negli Stati Uniti allora voglio dire se oggi vengono prodotti a latina o latina è andata negli Stati Uniti oppure latina è già in Italia quindi qual è la verità? la verità è questa aspetta che mi trovo la telecamera perché è uscilla comunque allora la verità come dire vale per le due cose che hai detto cioè l'Italia ha un suo progetto di monoclonale che è partito a marzo l'Italia ha investito 380 milioni di euro per avere un fighissimo monoclonale il migliore di tutti il più potente di tutti viene sviluppato a Siena in accordo con lo Spallanzani e sarà pronto gli studi fate conto che non sono ancora partiti sarà pronto forse alla primavera prossima prossima che vuol dire? primavera del 21? nel 21 certo dopo aprile dovrebbero chiudersi trial diciamo gli studi e in produzione potrebbe arrivare prima dell'estate quindi praticamente quando siamo ultimaccinati è arrivato arriva esatto la domanda è esattamente questa cioè perché nel frattempo non si utilizza quel che c'è sul mercato ovvero i monoclonali che sono stati somministrati a Trump noi avremmo potuto avere 10.000 piccoli Trump 10.000 italiani che anziché andare in ospedale vengono trattati e curati attraverso questi farmaci perché si sta aspettando quel progetto meraviglioso che sarà sicuramente il più promettente per un fatto tecnico praticamente ha una concentrazione in questo anticorpo molto superiore a quelli attualmente utilizzati e quindi potrebbe essere somministrato tramite una puntura anziché tramite una flebo ma ripeto il problema è che nel frattempo il mondo si è portato avanti gli Stati Uniti hanno comprato un milione di dosi dei monoclonali sviluppati da questa multinazionale che produce in Italia e che esporta fa uscire i furgoni dalla fabbrica di Latina che prendono a direzione di altri paesi ma questa cosa che lei dice è vergognosa no ma l'amministratore delegato della BSP che appunto si trova a Latina con cui io tra l'altro sono riuscito a parlare lo volevo invitare in trasmissione ma lui mi ha spiegato che ha un accordo di riservatezza con la multinazionale farmaceutica americana quindi non può parlare perché perché non l'autorizzano a parlare hanno togliato la lingua no non può parlare sono accordi sono accordi però appunto quello che sta dicendo Thomas anche lui per quel poco che siamo riusciti a parlare al telefono mi ha detto avrebbe comunque comportato un intervento sull'ospedalizzazione di tanti cittadini italiani immediato infatti siamo alla comica perché io ricordo che il professor Novelli già a marzo parlava di monoclonali e già a marzo il professor Novelli giustamente tirò fuori il fatto che i monoclonali avrebbero salvato molte vite umane però disse e sottolineò che in Italia non esistevano i monoclonali ora forse non era corrente che a Latina si facevano i monoclonali sicuramente era corrente del fatto prego è che all'epoca di quell'intervista non era ancora attiva la cattiva no ho capito però ancora oggi ancora oggi si sta cercando di fare i monoclonali come giustamente mi dice lei a Siena io capisco che sia tutta Siena ormai però Aldo Braga mi ha spiegato si ho capito loro sono Braga che è l'amministratore delegato di questa azienda latina mi ha spiegato che loro di mestiere fanno questo cioè loro gli dicono mi crei questo farmaco fatto così e loro glielo fanno mi ha detto proprio così e perché mettiamo e inventiamo un altro laboratorio che ci costa 380 milioni di euro a questa nazione per poter fare perché c'è qualcuno che ci sta mangiando sopra diciamocelo in maniera molto serena tra amici voglio dire qualcuno per mangiarci sopra ha avuto bisogno di mettere dei soldi sul piatto e di ricominciare una ricerca che già esisteva punto basta la verità è questa come si sta sviluppando Thomas l'inchiesta perché comunque prosegue insomma l'inchiesta diciamo è arrivata la quarta puntata e dal mio punto di vista è quasi finita nel senso che nel momento in cui il presidente dell'AIFA dice in sostanza rifacciamo tutto consideriamo i monoclonali che ci sono sul mercato noi abbiamo vinto cioè noi abbiamo raccontato una storia che dimostra che alcune che l'inerzia chiamiamola così piuttosto che il conflitto tra interessi contrapposti di rango nazionale rispetto a quelli internazionali ha rallentato la possibilità di cura per almeno 10.000 persone diciamo almeno 10.000 da quello che so io perché racconto che ancora non ho scritto ma ne ho avuto contezze in questi giorni quegli 10.000 erano soltanto il primo trial perché in realtà la capofila americana era disponibile a darle anche 20.000 30.000 il punto era che l'Italia poteva averle queste terapie prima ancora degli Stati Uniti dove sono state autorizzate al 9 di novembre quegli incontri di cui vi parlo sono del 7 di ottobre e del 29 di ottobre cioè noi già a novembre primi di novembre avremmo potuto dare questi medicinali che sono gli unici ripeto oggi si parla tanto di vaccino i vaccini servono alla prevenzione contro invece il virus che cosa ti dà l'AIFA la tachipirina signori poi questo farmaco Thomas tu avresti letto l'intervista anche rilasciata l'intervista una dichiarazione di un collega del TG.com che ha perso il papà a causa del covid e leggendo proprio la tua inchiesta ha detto io provo rabbia e stupore senza sapere che magari mio padre poteva essere una di quelle persone che potevano essere curate con questo con tutto il rispetto per il padre del giornalista io trovo invece che sia da diventare rabbiosi il fatto che si assistano sempre a delle comiche mostruose in questa nazione 380 miliardi sono già stati stanziati stanno già da parte per fare una cosa che già esiste o invece ancora non l'hanno dati quindi se li risparmiamo probabilmente sarà anche migliore però sarà migliore ma una cosa che non esiste diventerà migliore quando esisterà poi se uno andava nella società in questo caso di Latina e diceva guardate quello che avete miglioratemelo nell'arco di tre mesi gli davano il prodotto finito senza bisogno di tanti chiacchiere che mi sembra abbastanza chiaro c'è un tema secondo me scusate è un contributo secondo me importante a questa discussione esistono attualmente due farmaci di quel tipo autorizzati uno è il Regeneron che è quello che ha curato Trump uno è questo della Eli Lillie sono tutti neutralizzanti della carica virale quanto costano? il Regeneron costa 3.000 euro a fiala quello prodotto in Italia costa 1.200 dollari ora io vi chiedo voi sapete quanto costa un ricovero ospedaliero al giorno? no dicelo bene allora un ordinario cioè mi rompo la gamba e vengo ricoverato in ortopedia per capirci costa 850 euro uno in terapia intestiva arriva a 9.500 euro al giorno questo farmaco in due o tre giorni ti abbatte la carica virale e ti evita l'ospedalizzazione quindi tu hai speso 1.000 euro perché 1.200 dollari più o meno oggi sono 1.050 euro hai speso quei soldi ma ti sei risparmiato il triplo il quadruplo oltre alla sofferenza delle persone che in ospedale non ci sarebbero andate e sono fatto il calcolo diciamo sul sul dato degli studi clinici effettuati dice che 10.000 dose avrebbe riperito 950 ospedalizzazioni ci sono state smentite c'è stato qualcuno che allora c'è stato un tentativo dell'AIFA è stata comica verrà racconto perché è stata divertente allora il giorno in cui Palù dice in conferenza stampa apriamo ai monoclonali l'AIFA emette un comunicato che Palù non aveva mai letto né sottoscritto nel quale smentisce in sostanza la ricostruzione che ho fatto io ed è stata una smentita surreale nel senso che giocando con le parole giocando con le circostanze e perfino con gli atti mancati da parte dell'AIFA riescono a fare una collezione di eleganti bugie che però non hanno retto tant'è che Palù ha detto no no ragazzi qui i monoclonali vanno assolutamente provati utilizzati come fanno gli altri paesi quella smentita in sostanza diceva cosa diceva che non è mai stata formalizzata un'offerta gratuita è certo che non è stata formalizzata perché la riunione del 29 d'ottobre in cui c'erano tutti i capoccioli che vi ho detto a quella riunione nessuno ha mai dato un seguito quindi perché la multinazionale doveva anche se non fosse mai stata scusi anche se non fosse mai stata fatta quest'offerta basta parlare delle 1050 euro a dose 1050 euro a dose costano meno di due giorni di ricovero per una persona qualsiasi che va in ospedale e costano 8000 euro meno di uno come ha detto lei che sta in rianimazione detto questo abbiamo risolto il problema se avessimo speso 380 milioni basta fare 380 milioni diviso 1050 per capire quante dosi ne vengano fuori è abbastanza facile ne vengano fuori 380 mila così risolvo io il problema 380 mila dosi sono tante perché se avessimo avuto fortuna e le avessimo date a coloro che rientravano e sono entrati in rianimazione che poi sono morti non sarebbero morti punto basta comunque io l'ho trovata io non so voi ma io questa storia l'ho trovata scandalosa l'ho trovata direi quasi criminale nel senso che nell'inerzia oppure come dicevamo prima per un interesse contrapposto legittimo per carità ma fatto sulla pelle della gente legittimo no legittimo no un interesse contrapposto non legittimo davanti a questo concetto di sanità come per me non è legittimo il fatto che non si facciano i vaccini e che il vaccino sia su base volontaria non è legittimo nemmeno che si possa pensare di fare un prodotto nuovo dato che il prodotto già esiste esiste un prodotto ha un costo viene prodotto in Italia punto e basta cioè bisogna cominciare a parlare chiaro perché ho paura che con la politica corretta si vada poco lontano ci vuole un po' di politica scorretta ultimamente quindi ci sono le cose che erano legittime quando si voleva essere bravi e cauti ma se non si vuole più essere né bravi né cauti c'è qualcosa che non va fatto quindi lei potrebbe tradurlo in una parolaccia che io non voglio usare perché poi dicono che sono solo parolacce però questa cosa è sbagliata totalmente sì tra l'altro Thomas la cosa ancora più surreale è che parte da un virologo italiano che lavora negli Stati Uniti e che chiede a titolo personale no? perché l'hai raccontato tu proprio perché conosceva l'amministratore delegato da Ellie Lilly e gli dice per favore vi interessa di all'Italia lo sopplica a un certo punto quando l'hai messo quel comunicato io l'ho girato a questo virologo che è veramente un pezzo da 90 della virologia mondiale il quale si è risentito al punto che mi ha girato tutto il carteggio tra lui e le persone che stavano a quel tavolo perché quella smentita che cosa adombra il sospetto che il virologo in realtà volesse aiutare la multinazionale perché mi sono fatto un ingrazie renditi conto cioè una multinazionale che ha un fatturato di vari decine di miliardi eccetera è presente in tutto il mondo ha bisogno dell'aiuto dell'Italia ma poi più che altri in questo momento non c'è bisogno si sta a fare tante chiacchiere bisognava utilizzare e provare ciò che invece non abbiamo né utilizzato né provato quindi con la comica siamo andati un passo avanti d'altronde che viaggiamo e lo ripeto in ordine sparso in Italia in Europa ormai è abbastanza chiaro per tutti ultimamente in questa trasmissione abbiamo sentito solo ordine sparso improvvisazione va bene io la ringrazio Mekinson la ringrazio per questa cosa spero che non ci troveremo mai più per parlare di notizie così importanti ma poi così banali perché la cosa che lo rende che rende questa cosa secondo me ancora più assurda è la banalità cioè a Latina a distanza di 70 km da Roma dove noi stiamo trasmettendo c'è una fabbrica che produce un prodotto che guarisce che ha salvato Trump o comunque negli Stati Uniti noi avevamo la possibilità di utilizzarlo ma noi non l'abbiamo utilizzato però spendiamo 380 milioni siccome navighiamo nell'oro in questo momento per mettere su un'impresa che forse realizzarà un prodotto migliore ma di che stiamo a parlare cioè è una comica questa è una barzelletta tragica è una cosa tragica ci fa piangere mi sembra un film di Alberto Sordi esatto mi vengono in mente i film di Alberto Sordi quando Alberto Sordi un po' rideva però poi alla fine succedevano le cose più assurde come si chiama il film dove è stato messo in galera che poi gli diceva era innocente detenuto in attesa di giudizio detenuto in attesa secondo me lui non ci ha mai creduto che potesse succedere questo e qui è la stessa cosa in Italia viviamo tutti come un detenuto in attesa di giudizio senza aver fatto nulla va bene la saluto la saluto buonanotte e grazie arrivederci arrivederci va bene allora a questo punto signori siamo arrivati a fine serata quindi rettore il suo riassunto beh è una bella puntata diversificata non le ho chiesto se sono bello non le ho chiesto le ho chiesto con al centro con al centro ma il riassunto della puntata diciamo no no io voglio sapere se lei è d'accordo con me a questo punto su questo concetto di confusione sì sì sono d'accordo e di dilettanti allo sbaraglio volevo sapere la parola a cui ho pensato che nella banalità si potrebbe pensare che la parola del giorno è vaccinazione invece ho pensato un'altra parola che è connessa alla vaccinazione che non mi è piaciuta enfatizzazione perché c'è stato secondo me un'eccessiva enfatizzazione uno sfruttamento d'immagine un fenomeno un po' particolare che non contribuisce poi al benessere della collettività perché molti già si stanno illudendo che la pandemia sia finita ormai c'è il vaccino ma il vaccino ci vorranno mesi ci vorrà tutto l'anno se tutto va bene perché possa raggiungere i propri benessi voglio fare una domanda ma in tutti gli altri stati a me mi ha fatto un po' rire questo furgoncino che è arrivato dal Belgio da solo alla frontiera era stato scortato fino alla frontiera da francesi oppure era avuto da solo perché quello non capisco io è arrivato da solo e quando è arrivato questo si è visto accettiato come diceva il rettore il paradosso è che di fronte all'enfasi tipo sbarco in Normandia come ha detto anche De Luca questa sera arriva la notizia che siccome cade la neve l'inverno che è una cosa abbastanza normale i vaccini non arrivano al nord ma arriveranno mercoledì perché il vaccino che vi deve viaggiare a meno 80 viaggia in modo fighissimo quando c'è il sole a picco ma nella neve no se no non serve più a niente il fulgone scherzi a parte un'altra domanda che mi sono fatta a questo proposito perché in questa affarizzazione non mi riferisco ad altro quanto alla fase del vaccino che va bene farlo pubblicamente per dare esempio però poi certi eccessi di protagonismo secondo me andrebbero evitati queste sono cose che necessitano della giusta serietà soprattutto per il pericolo di un messaggio di libera tutti che potrebbe invece non mi riferirà ma che libera tutti amiche italiane sono scemi hanno vaccinato 9.750 persone scarse anzi io spero che non gliel'abbiano fatto tutti i vaccini quindi ne abbiano vaccinati 5.000 poi ci vuole un mese perché se no gli manca il vaccino ci vuole un mese per immunizzarsi ci vuole la seconda dose sì una dose due settimane una dose due settimane seconda dose una settimana dopo 21 giorni va bene signori siamo fuori i due minuti tre minuti volete fare gli auguri per l'ultimo dell'anno che giorno viene l'ultimo dell'anno è venerdì quindi noi non siamo in trasmissione quindi dobbiamo fare gli auguri allora io purtroppo lo dico con rammarico questo 2020 sta finendo mi aveva riempito giovedì e venerdì giovedì e venerdì però volevo dire il 2020 mi ha riempito di gioia è stato un anno che mi ha insegnato è stato un anno che mi ha insegnato che la prossima volta che andrò a votare leggerò mi informerò e anche la prossima volta che quando leggerò l'oroscopo a fine anno dirò forse non si avvererà tutto quello che c'è scritto nell'oroscopo ma detto questo anche per quanto riguarda gli economisti non mi fiderò più e poi mi ha anche insegnato che anche l'ultimo dei moichiani cioè io può fare il giornalista va bene detto questo però non lo volevo dire ma no ho permesso di non dirlo c'è una cosa così d'altronde io questo lavoro lo faccio come terzo lavoro quarto lavoro prima faccio l'imprenditore poi faccio l'imprenditore di aziende minore poi faccio il presidente della Ternana poi faccio il giornalista dopo che ho fatto anche sport detto questo il 2020 è un anno fantastico signori andiamo a dormire perché se no qui non ne usciamo vivi ci rivediamo ad anno nuovo nel 2021 io spero che sarete tutti più belli tutti più intelligenti tutti più sani e se così non sarà non vi preoccupate non vi preoccupate camperemo lo stesso buonanotte a tutti buonanotte buonanotte a tutti Grazie a tutti.